Facce più distese al comitato elettorale di Luciano D'Amico questa mattina a Pescara dopo le notizie giunte in nottata dalla Sardegna con la vittoria un po' a sorpresa del Sandra Todde e le regionali candidata del centro-sinistra. Lo sottolinea con entusiasmo Sandro Ruotolo, giunto in Abruzzo a sostegno della candidatura di D'Amico per parlare di piccole e medie imprese. Dall'ex giornalista Rai, oggi responsabile dell'informazione nella segreteria nazionale del PD, un appello ad elettrici e direttori abruzzesi che hanno preferito disertare i seggi nelle ultime competizioni. Questa destra si può battere anche in Abruzzo, dice Ruotolo, perché uniti si vince non solo proponendo un campo largo ma anche giusto dove ai semplici slogan si predilige un programma serio di governo in contrasto ad esempio con l'autonomia differenziata, un obolo, secondo Ruotolo, di Fratelli d'Italia, la Lega di Salvini e Calderoli in cambio della premierato ma che di fatto affosserà le regioni del mezzogiorno compreso l'Abruzzo. Immaginatevi solo che da un punto di vista di politica energetica 20 politiche energetiche diverse. Pensate alla sanità, alla sanità nel mezzogiorno dove sono ripresi i viaggi della speranza nel nord. Pensate alla scuola, alle 20 istruzioni, cioè è la morte del mezzogiorno e noi e su questo voi elettrici ed elettori dell'Abruzzo avete una responsabilità enorme. Venendo ai temi specifici oggi si parla di piccole e medie imprese, è praticamente tessuto economico predominante di questa regione anche alla luce delle politiche nazionali. Che futuro ci aspetta? Il futuro se pensiamo soltanto a come stanno trattando il mezzogiorno e quindi i fondi di coesione e quindi il salario minimo garantito eccetera eccetera. Questo vuol dire che è ancora di più necessario cambiare pagina per questa regione. Noi abbiamo ovviamente esperienza nel nostro campo sulle piccole e medie aziende che è l'ossatura ma come abbiamo esperienza anche grazie alla componente ambientalista sul green, sul digitale, sull'innovazione, sulla innovazione digitale della nostra, del nostro sistema produttivo in questa terra. E cioè questo è un bene, l'Abruzzo è un bene per l'Italia.